Grazie e benvenuti in questo nuovo video di Injustice Siamo rimasti l'altra volta che abbiamo finito questo episodio qua Quest'ultimo, questo qua che ci sto sopra, questo qua che ci sto passando sopra Ok, ora andremo a fare quest'altro episodio A quanto pare dall'ultimo episodio siamo rimasti che abbiamo usato questi tre E questi due erano diventati, Lanterna Verde e Flash erano diventati a livello 16 Siccome non abbiamo molto, molta forza, dobbiamo per forza ricaricare Ok, sinestro e ricarichiamo Flash Lanterna Verde, se ne sta fuori per un pochino Lo leviamo, ci mettiamo Nightwing Ok, perfetto Ci mettiamo Nightwing che così almeno gli leva un po' di potere a questi qua Ok, andiamo a lottare contro Cyborg, Flash e Herliquenta, se non mi sbaglio O Herliquenta o Catwoman Vai Herliquenta, c'ho ragione all'inizio Vai, vai, vai Vai, fagli il culo Flash Vai che tu sei più forte Vai, vai Flash Vai, ammazzalo dei botte Boom, guarda quanto gli ha levato Eh, pure lui leva parecchio, eh Facciamo il 200%, ah, 194 Vabbè, dai, tanto c'ho la poca vita, eh Aia Nu, gliela leviamo, così la facciamo rosicare ancora di più Boom M'ha fatto fuori Nightwing Va bene, dai Ci sa, bordello Boom Capò E capò anche lei Vai E una è binta Questa è l'armatura di Flash Questa qua, eh Se vedete dei pallini È il mio dito che si sposta, comunque Che l'ho messo apposta per farvi vedere tutti i miei spostamenti In pratica Vi spiego Vi spiego pure un pochino Come si gioca In pratica Se trascini il dito in avanti Fai i colpi Eh Più Un po' più lenti Però Però Sono più Potenti Se invece Clicchi semplicemente Fai i colpi più veloci Però Fanno un po' meno di danno Se ci fate caso, eh Un po' meno Neanche Neanche si nota tantissimo Senestro VS Senestro E chi vincerà Il mio senestro Ovviamente Gli abbiamo fatto il culo Anche a questo Vediamo se Se si è No, no Ancora no Ok Lo dobbiamo fare Far stare ancora un po' a riposo Lanterna verde Questo è Batman Batman è impossibile da sbloccare Poi vi farò vedere anche Quanto costano Tutti I personaggi per comprarli, eh Io ho tutti i bronzo Per ora Quindi sono i più Scarsini Aia Boom Io ho levato la mossa Vedete Qua sotto ci stanno le barre Le barre per vedere tutte le mosse Quest'altro pure è un altro che ti leva la mossa Freccia verde mi pare si chiama Ce l'abbiamo anche noi I nomi non li so bene Perché ci gioco da ben poco Ci gioco Non mi ricordo Da quanto ci ho giocato Vedi questo La seconda mossa di questo Ti leva un po' di vita Perché c'è il veleno Vedi Ti mette il veleno nel corpo E quindi ti leva la vita Dai ce la possiamo fare ragazzi Questo Questo in pratica è morto Boom L'abbiamo fatto fuori Boom 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 Cerchiamo di far fuori anche lui Boom 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 Due colpi è morto Due colpi ed è morto Ah Olè Il mal rovescio Di sinestro Che lo fa fuori Quell'argentone Che c'era un po' rotto anche Le palle Uh Luce a lanterna verde Modificato Vedete Poi c'è Black Adam Livello 13 Comunque è buono eh Allora potenziamo lui Che ci abbiamo Diecimila Aspetta Andiamo a vedere Se ci possiamo comprare Qualcuno Di personaggi Allora Allora Lo stanno tutti parecchio Noi siamo solamente a diecimila Ci potremmo comprare Cyborg Ma a livello 1 Quindi lo dovremmo fare allenare Quindi non conviene Questo è forte Dextra Non so neanche pronunciarlo Vedete Questo si compra Con questi punti Che io c'erano 30 Non so come farli aumentare Questo pure è forte Però questi sono A livello 1 Questi bronzi Che posso acquistare Quindi a sto punto Preferisco Preferisco Mettergli Le letto a lui Promuovi 9000 costa E lo promuoviamo Elite 1 Anche lui sai Elite 1 Elite 1 Si vede da qui in alto Vedete qui in alto All'angolino sinistro In alto Si sta scritto L'1 In lettere romane Questo è sempre Batman Con la sua batmobile Ok Andremo a fare Questa partita E andremo a fare Il culo a tutti Natwing Non mi devi nemmeno Toccare Non ci devi nemmeno Provare a toccarmi Ah vaffanculo Black Adam Mi sto proteggendo Perché quando c'è Sti pallini Vedete mi fa danno a me Ok Ora lo posso Gli posso fare Il culo a strisce Mi ha dato una testata Manco Zidanna Oh Aiuto Ah Ha resistito Proprio all'ultimo L'ultimo secondo Black Adam Ah Pensavo che gli facevo Il culo Un po' di più Dai Eh Mi sa Non lo prendo No invece si Tempo di rialzate Che t'ho fatta il culo Vai 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 Boom Gli è arrivata Una bella botta Boom Attenzione A lanterna verde Modificato E anche lui Fa il culo A strisciotti Guarda Che pugno Che mi ha dato Mamma mia L'ho fatto fuori Ecco M'ha fatto fuori Boom Una botta In faccia Mamma mia Quanto è forte Flash I Bain Questo non lo conosco Ok Siccome stiamo contro Bain Che non lo conosco E penso che è molto forte Da come è fatto Guardatelo Porca troia 1700 Beh ci potrebbe fare un po' Il culetto Quindi io ho messo Lanterna verde Per security Per sicurezza Sperando che mi faccio Il culo Il culo Al frisciotti Questa è la tuta Di Di Flash Tutto pompato Testata di zidane Porca troia Mi ha allevato tutta la vita Fortissimo Moe Moe Mi ha fatto fuori Tutti No non ce la posso fare Ragazzi Ho già perso In anticipo No invece no Cazzo Eh mi ha fatto il culo a strisci Ragazzi Non ce la faccio Solo col sinestre Forse si No no Ho perso Eh ho perso ragazzi Dai 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 Che forse Glielo riusciamo a battere No Botta insieme Boom Eh sono morto Scusate ragazzi Per la figura di merda E' impossibile Batterlo questo Impossibile Poi non abbiamo neanche l'energia Quindi Mi devo lasciare Quando ci ritornerà All'energia Ci riproveremo E quindi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like E condividete Condividete E Iscrivetevi E commentate Mi raccomando Commentate Perché voglio sentire la vostra presenza E ciao ragazzi Iscrivetevi E E E E E E E